Il record del 2007, 330, 22.500 visitatori in tre giorni, dal 15 al 17 febbraio all'incontro chiarito di novembre e via la 26esima edizione di Automotive, tra le tante novità di questa edizione il convegno dell'AS, Auto Auto Club Stotico Italiano, apertura del 15 febbraio alle 15 alle 20, sabato sera.